Settembre, tempo di uva e tempo di vendemmia. Questo è il vitigno tipico sorrentino. Eccole le nostre pigne preziose del bianco. Sia bianche che nere, uva tintora e uva di sabato, che un tempo era considerato un vitigno poco pregiato, mentre invece è stato rivalutato e ben si presta a essere mescolato con altre. Ma la delizia dei bambini è questa qui. Eccola qua. L'ambrogine l'ho appena assaggiato e questa è quella che si chiama uva fragola. Fragolina nel sapore. Un bellissimo vitigno. Il vitigno, il giardino sorrentino, sotto l'uva e sopra le olive. Le olive arriveranno più là in autunno. Lo spegno un attimo. Eccolo qua, il giardino sorrentino, che riesce a contenere tutto per un'autonomia di famiglia, anche se negli ultimi tempi la spalliera di viti viene utilizzata come termine di confine. Le olive sembrano ricche quest'anno, anche se non c'è stata pioggia, e quindi la resa sarà bassina. Ma vediamo dei bei sciocconi. il overtone e di a meno. Vistungi prima. Si tratta di fare risultare tutto il vino, perché sono già saltato e scrive. Vistungi prima. Grazie a tutti.